Grazie per essere qui questa mattina. Questa volta parlerò del daimon in numero. Il daimon dei greci ci sembra familiare il quanto il demone delle lingue dell'Europa cristiana deriva dal termine greco. Tuttavia, come spesso succede nel caso della trasmissione delle parole da una lingua all'altra, la prudenza è obbligatoria. E ieri ho parlato della parola religione. È la stessa cosa. Il demone cristiano deriva sì linguisticamente del daimon, ma per i greci il daimon non è un demone, nel senso che noi diamo a questa parola. Vorrei perciò ricondurre il daimon dei greci nel contesto culturale del periodo arcaico. Per fare ciò, oltropassero in parte i limiti annunciati dal mio titolo, che fa riferimento solo a Omero, inizierò il mio discorso da una poesia di Saffo e parlerò poi anche di Esiodo. Cominciamo dunque da Saffo. Come forse sapete, nel 2014, un papiro edito da Dirk Hobing, professore a Oxford, e rinomato papirologo, ha permesso di conoscere due nuovi frammenti di Saffo. Si tratta di uno dei piccoli miracoli della trasmissione dei testi antichi, anche se nel nostro caso, purtroppo, il testo è finito in una collezione privata. Mi soffermerò su uno dei frammenti, quello che dal momento della pubblicazione è correntemente chiamato, in inglese, il Brothers Poem, componimento dei fratelli. Ecco il papiro. Ne potete leggere il testo e la traduzione di Ferrari, di Franco Ferrari, sullo schermo. La persona loquens del poema si rivolge a un interlocutore indeterminato, ma tu non fai che ripetere che Carasso è arrivato con la nave stracolma e cosa credo che sanno Zeus e tutti gli dei, in greco sympatesteoi. Ma la ripetizione di questa affermazione non serve a niente, occorre piuttosto pregare gli dei e più precisamente era Basileia la regina perché Carasso rientri sano e salvo e tutto il resto affidiamolo ai nummi, espressione che tradusce il greco ta dalla panta dai monesin epitropomen. A seguire troviamo una osservazione generale sulla buona sorte che il sovrano dell'Olimpo riserva a certe persone. A questi umani eletti Zeus invia un daimon protettore contro le pene, facendone così delle persone maccare scaipoli olboi, felici e molto prosperi. La quarta strofa conservata del componimento di Saffo è una sorta di glossa poetica dell'aggettivo odaimon, felice, e del campo semantico di ciò che possiamo tradurre con felicità, buona sorte, Ma questo daimon non è una potenta indistinta, è l'esecutore dell'azione intrapresa da Zeus nel poema di Saffo il daimon è dunque l'espressione concreta della volontà, bolletai, di Zeus e ne manifesta il modo d'azione. Ecco dunque il significato delle occorrenze di daimon nella poesia di Saffo. Da un'altra parte il plurale si presenta come un sinonimo degli dèi, qui, un sinonimo degli dèi, d'altra parte il singolare costituisce una sorta di agente che concretizza il potere di Zeus. Con queste due occorrenze come si posiziona la poesia di Saffo in relazione alla tradizione omerica. Quali sono gli eventuali precedenti di tali uso? Cominciamo con la forma al plurale, i daimones. L'espressione è poco attestata nell'Iliade ed è del tutto assente nell'Odissea. Il plurale daimones designa la collettività degli dèi. Una sola delle tre occorrenze è sufficiente a mostrarlo. Nel canto primo dell'Iliade, Atena verso l'Olimpo se n'era andata verso la casa di Zeus portatore dell'Egida con gli altri nummi metà daimonas allus. I daimones sono qui sinonimo di teoi costituiscono una variatio sermonis. Tale espressione ricorda da vicino la prima attestazione che abbiamo incontrato nel Brothers poem di Saffo. Il daimon al singolare, questa volta, appare una sessantina di volte nell'Iliade e nell'Odissea. Fra queste occorre innanzitutto isolare una formula ricorrente daimonis issos. somigliante a un daimon. Tale espressione formulare compare otto volte nell'Iliade. In ogni caso, il personaggio epico così calificato effettua un movimento rapido, folgorante, con il quale supera ciò che si potrebbe attendere da un semplice umano. Non è senza interesse che tali qualifica aspetti ai seguenti eroi. Diomede, al quale Atena ha concesso una chiaroveggenza temporanea. Patroclo, che indossa le armi di Achille. lo stesso Achille, al culmine del suo furore contro Ettore e i troiani, ha seguito della morte di Patroclo. Ciascuno di questi eroi, nel momento in cui è designato come somigliante a un daimon, sorpassa i limiti delle competenze abituali dei soldati Achei impegnati sul campo di battaglia. L'espressione pros daimona, che compare due volte nel canto diciassettesimo, si scrive nello stesso registro, Menelao si accingue a ricondurre nel campo dell'Iachei il corpo di Patroclo, caduto sotto i colpi di Ettore, ma quest'ultimo, ispirato da Apollo, si lancia contro di lui. A questo punto Menelao esita e la sua riflessione interiore è la seguente. Quando un uomo vuole contro un daimon combattere un essere favorito da un dio, gli sopraggiunge ben presto una grande sciagura. l'eroe rimpiange che Iachei non possa aiutarlo perché insieme potrebbero affrontare un daimon, ovvero l'azione di un dio che sostiene l'avessario. Nella continuità di questi esempi, la maggioranza degli usi di daimon al singolare rimanda al contesto di un'azione divina che un personaggio percepisce in quanto tale ma non può identificarne l'origine. L'umano sa che un dio è all'opera ma ignora quale. Può essere il movimento potente indotto da un dio non identificato, tale pulsione può essere sia fisica sia mentale, ancora può essere un'azione inattesa e perciò attribuita a una divinità che resta anonima. Per esempio, nel canto quindicesimo Toicro vuol tirare una frescia che dovrebbe colpire Ettore e porre così fine in anticipo alla guerra. Zeus si oppone e rompe la solida corda di un arco altrettanto robusto. Toicro comprende che un daimon ha risolutamente bloccato il gesto che si apprestava a compiere. Ma mentre l'uditore del poema sa che Zeus è responsabile della rottura della corda e ne è consapevole anche Ettore, il guerriero Acheo Toicro è costretto a sottomettersi a un intervento divino generico. Tale intervento può allora anche essere inteso altrove come il destino che dà la morte. Questo è l'esempio paro sto il daimon addosso finché ti darò un daimon quindi finché ti darò la morte. L'odissea presenta dei casi simili e quando vi è citato il daimon ciò significa che un'azione divina ha avuto inizio. Occorre tuttavia sottolineare una differenza significativa tra i due poemi nell'odissea la costruzione dei frasi in cui compare daimon attribuisce molto frequentemente a tali termini la funzione di soggetto. Ciò tende a farlo apparire come l'agente dell'azione. Invece nell'iliade invece l'uditore o il lettore sa che il daimon è soltanto l'esecutore di un'azione divina e proviene da altrove da altrove questa differenza è legata probabilmente legata alla rispettiva trama narrativa dei due poemi nell'iliade più che nell'odissea l'uditore o il lettore è messo nella condizione di sapere ciò che è ignotto al protagonista dell'intreccio l'identità degli dei la cui azione è percepita dagli umani nella forma di un daimon è perso più evidente nell'iliade c'è tuttavia un caso in cui nell'epica e più in particolare nell'iliade un daimon sembra esplicitamente assimilato a un dio che definirei olimpico da uno dei personaggi dell'intreccio è un passaggio da spiegare e non si tratta di un personaggio qualsiasi nella guerra ma di Elena la bella Elena al centro del conflitto che oppone Gresci e Troiani siamo nel canto terzo sulle mura di Troia Elena è salita per osservare la carneficina nella carneficina nella pianura divenuta un campo di battaglia ha indicato al re Priamo che si trova sulle mura con lei i vari guerrieri Achei in azione in questo contesto si tiene il duello fra Paride e Menelao Paride prediletto di Afrodite sarebbe caduto sotto i colpi del primo marito di Elena ma la dea l'ha salvato facendolo sparire dal campo di battaglia e conducendolo nella sua camera nel palazzo di Priamo dopodichè Afrodite si recca da Elena che si trova ancora presso le mura vuole convincerla a raggiungere Paride nella sua camera e ha assunto i tratti di una vecchia filatrice spartana ma Elena che non ha alcuna difficoltà a riconoscere la dea resiste decisamente al suo tentativo di persuasione Afrodite si incorerisce e minaccia di trasformare il grande affetto che ha per lei in un odio feroce che la farà perire Elena si spaventa non può che sottomettersi alla volontà della dea velarsi e abbandonare le mura senza essere vista da nessuno e il poeta conclude Erche de Daimon un Daimon precedeva questa situazione è unica tanto nell'Eliade quanto nell'Odissea poiché la protagonista dell'episodio 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 capito Elena in questo caso sa con quale divinità ha a che fare questo passo è particolarmente interessante per il mio discorso penso infatti che confermi l'ipotesi che ho delineato con voi fino ad ora il Daimon designa innanzitutto la potenza d'azione di un dio anonimo perché colui che non subisce subisce gli effetti non riesce a dargli un nome ma Elena è figlia di Zeus e possiede come Achille figlio di Teti una chiaro vengenza particolare di tale chiaro vengenza gli altri mortali non possono beneficiare che temporaneamente secondo la concezione di questa o quella divinità è il caso di Diomede illuminato da Atena nel canto quinto come abbiamo visto precedentemente l'emozione e il desiderio sentiti da Elena quando la filatrice spartana le parla del suo sposo languidamente a disteso sul suo letto è precisamente l'effetto indotto dall'azione di Afrodite certo la traduzione Erche de Daimon con un Daimon precedeva che si trova nelle edizioni del testo tradotto da Rosa Calzecchi Onesti non è sbagliata ma impoverisce l'espressione e al stesso tempo la sottilezza del poeta che con una sola parola ha espresso tutta la potenza di un'azione divina in svolgimento a condurre Elena al letto condiviso con Paride e il desiderio indotto da Afrodite questo Daimon che la Dea le ha inviato e che ha preso la forma di una vecchia filatrice originaria della patria spartana dell'eroina e quindi sì in questo caso preciso e per i bisogni dell'intreccio Teos Daimon e la Dea ben identificata con il nome di Afrodite si fondono inestricabilmente in virtù della chiaroveggenza di Elena ma fondamentalmente i principi dell'azione demonica sono identici a quelli che colpiscono gli eroi nel cuore della miscia e ho detto azione demonica e non demoniaca che rinvià al demone cristiano un'azione demonica rimaniamo nel canto terzo e torniamo un po' indietro vi ho detto che Elena salita sulle mura di Troia era stata interpellata da Priamo perché lo aiutasse a identificare i combattenti gresci nella piana troiana il primo fra questi è Agamemnone Agamemnone ho fatto una domanda prima ma il primo fra questi è Agamemnone un guerriero possente nel quale il re dei troiani riconosce un uomo favorito dalla sorte o beato Atride nato con buona fortuna Moirogenes con nome benigno Olbiodaimon Olbiodaimon è un apax mentre Cacodaimon è ben attestato a partire da Esiodo in Omero un daimon può causare un cacon ma l'aggettivo Cacodaimon in quanto tale non è presente nella poesia epica che pensare quindi del Olbiodaimon del canto terzo la formazione della parola e il suo contenuto semantico ne fanno un sinonimo di Odaimon felice a sua volta non attestato in Omero ma destinato a grande fortuna in poesia in prosa a partire dalle opere e giorni di Esiodo ma se gli dei sono felici non sono tuttavia Eudaimon gli aggettivi Macar Olbios e Poli Olbios possono riferirsi all'immortati immorati no immortali come ai mortali e anche a delle cose per Olbios ma solo gli umani sono detti Eudaimon designazione alla quale in numero corrisponde Olbiodaimon per Agamemnon Gamemnon e io n'y arriverai pa Teognide un altro poeta del periodo arcaico è rivelatore di questa evoluzione dal momento che associa associa strettamente il favore degli dei con il fatto di essere Macar Olbios Eudaimon Leggo il testo Posa io essere felice e caro alli immortali eudaimon eien cae teos filo satanatoi sin o ancor meglio felice fortunato e prospero chino ignaro di prove discende nella cupa di mora di Ade La formazione dell'aggettivo eudaimon e del sostantivo eudaimonia rivela dunque una rappresentazione dell'azione divina che vediamo all'opera a partire dall'epica e di cui il nuovo componimento di Saffo esprime le implicazioni concrete in mondo del tutto particolare capiamo ugualmente perché gli dei non sono esseri eudaimonos il termine si riferisce infatti a un stato necessariamente transitorio il momento in cui uno o più divinità decidono di favorire un mortale mettendolo al riparo dalle sofferenze l'alternanza l'alternanza di beni e mali è esclusiva della condizione umana e ignota alla condizione divina buona e cattiva sorte si dice in Italia in francese bonheur e malheur secondo una terminologia che specifica in una direzione o nell'altra il carattere di per sé neutro di una sorte di una sorte un presagio in greco il fatto di qualificare in modo positivo il daimon lascia intendere che possa essere negativo e ciò ne esclude per forza di cose l'applicazione agli dei che sono felici felici in modo totale e definitivo inoltre proprio gli dei sono all'origine dell'azione demonica che trasmette la loro volontà agli uomini come ho anticipato poco fa vorrei soffermarmi un momento sulla poesia di Esiodo e più in particolare sul poema intitolato le opere e i giorni come certamente sapete si tratta di un poema didattico nel quale il poeta iscrive i lavori dei campi in una vasta riflessione sulla condizione umana prima di arrivare alle opere e ai giorni veri e propri vari racconti evocano la condizione umana in particolare il cosiddetto mito delle razze che racconta la successione delle diverse specie umane create dagli dei il termine di riferimento di queste specie è metallico dall'oro al ferro passando dal bronzo e l'argento la razza degli eroi si interpone fra la razza di bronzo e quella di ferro ma in questa sede mi interessano gli uomini dell'età d'oro gli uomini dell'età d'oro morivano sono mortali morivano rimanendo sempre giovanni come addormentandosi divennero allora per volontà di Zeus daimonos leggo la traduzione i daimonos daimonos venerabili sopra la terra buoni protettori dai mali custodi degli uomini mortali sorvegliano le sentenze le opere malvagie vestiti d'aria si aggirano su tutta la terra datori di ricchezze essi ebbero questo onore regale è stato da tempo osservato che il ritratto di questi daimonos terrestri è molto simile a quello dei trentamilla immortali di cui più avanti nel poema si dice che per la volontà di Zeus sono divenuti il passaggio è così custodi agli umani mortali i quali ne osservano appunto le cose le opere nefande essi vestiti d'aere si aggirano su tutta la terra e per questo motivo i due versi sono stati considerati come una interpolazione nel mito delle razze e la ragione perché lei ha questo signo questa prossimità particolarmente evidente fra i daimonos nati dall'età d'oro e il trantamilla thanatoi incaricati da Zeus suggerisce che essi siano entità dello stesso tipo che il poeta mette in scena in contesti differenti quello del mito delle razze in legame stretto con gli umani dell'età d'oro da un parte quello dell'esortazione alla giustizia per il re in relazione alla figura di Dicche d'altra parte in ogni caso questi daimonos pur restando anonimi risultano maggiormente personalizzati che nell'Iliade in quanto si vedono attribuire una biografia minima e un'apparenza per quanto fluida ma la loro ma la loro funzione resta quella di concretizzare il modo d'azione di un Dio in questo caso Zeus stesso nelle sue opere di giustizia e di portatore d'abbondanza che si tratta di Omero Esiodo Saffo o Theognide la nozione di daimon che abbiamo analizzato si manifesta in opere poetiche la maggior parte dei lavori che affrontano la problematica del daimon osservano a giusto titolo che si tratta di un termine poetico il daimon non sembra trovare alcun corrispondente nelle pratiche culturali degli antichi salvo nella forma rara del Agathos daimon il buon daimon attestato in particolare nell'Egitto ellenistico a parte i rari casi in cui appaiono dediche a questo buon daimon non si onora ritualmente un daimon si onora un teos un dio ma non un daimon a questo punto vorrei richiamare l'attenzione su quella che resta secondo me dopo più di 50 anni una delle analisi più fini e pertinenti della nozione di daimon si tratta della tesi di Marcel de Thien lo studio da lui condotto su daimon nel pitagorismo antico l'opera certo concerne essenzialmente la risemantizzazione del termine messa in atto dai seguaci di Pitagora tali approccio giustifica il titolo dal panziere religioso al panziere filosofico tuttavia a introduzione di questo studio Marcel de Thien offre alcune considerazioni generali sotto il modesto titolo di approssimazioni sulla nozione di daimon la determinazione del daimon si compie da prima per contrasto con ciò che li è estraneo non esistono ritti culti abbiamo visto omitti concernente l'attività demonica tale forme del divino perché è pur sempre del divino che si tratta sfugge al panziere cultuale come pure alla rappresentazione figurativa il daimon non è una forma del divino iscritta nella materia scritta de Thien scritta de Thien questa assenza di rappresentazioni figurative di miti di rituale lo rende una categoria particolarmente flessibile cito de Thien positivamente daimon è un significante il cui significato non ha valore fisso è terminato nel pensiero religioso era la citazione partendo dall'ipotesi che il pensiero religioso sia come un insieme di segni tra virgolette la composizione di questo studio alla fine degli anni 50 non è fortuita da questo punto di vista il strutturalismo è dietro e partendo dell'ipotesi che il pensiero religioso sia come un insieme di segni il daimon in quanto significato fluido potrà rivistere significati diversi e multipli e la considerazione di De Tien quanto a Omero De Tien si attiene all'affermazione generale di Pierre Chantrain il quale vede nei daimonos delle potenze non ben identificate che intervengono nelle questioni umane nel contesto pitagorico studiato più nel dettaglio da De Tien un processo di appropriazione e di semantizzazione avrà luogo sotto forma di una oggettivazione con questa affermazione De Tien intende e traduco il francese un processo che rivestirà il segno daimon di caratteri propri di un vero oggetto del mondo esteriore lo lo iscriverà nel cosmos sottomettendolo alla categoria del tempo e dello spazio la nozione di daimon perderà così il suo carattere ambiguo e non designerà più un essere allo stesso tempo interiore ed esteriore ma sarà realmente oggettivata questa affermazione richiederebbe richiedere richiederebbe una critica che farò altrove e più tardi ma queste varie riflezioni per brevi che siano sono assolutamente pertinenti per il nostro percorso nell'epica arcaica nella trama narrativa dell'Iliade dove l'azione delle idee è essenziale per determinare il kleos la gloria eroica il poeta facendo ricorso al daimon singolare esprime l'azione divina sottolineando al contempo la dimensione dell'esteriorità il modo d'azione divino e dell'interiorità l'effetto dell'azione sull'essere che ne è il destinario nelle opere e i giorni il punto di esiodo il punto di vista è quello di una piccola comunità agricola che deve assicurarsi i mezzi di sussistenza grazie a una fatiga consapevole di cosa fare per un lavoro efficace è attraverso l'applicazione rigorosa della giustizia che permette di fruire dei prodotti di tale fatica l'ascento è persi opposto sulle entità poco definite che sono i daimonos e pictonioi al contempo i mortali guardiani dei mortali e animi dei morte che svolgono questa funzione assicurando inoltre la fertilità della terra alla base della loro azione si trova la figura tutelare di Zeus cui sono ricondotti in ultima istanza la prosperità e la giustizia tuttavia la disseminazione di queste entità vestite di bruma per tutta la terra da loro una consistenza e una certa permanenza che non appariva allo stesso modo negli esempi omerici in tale rappresentazione degli agenti di Zeus troviamo in germe l'idea di un daimon personale che nella forma di daimonion condurrà Socrate al suicidio dopo il processo che conosciamo non è un caso che la prima attestazione del termine odaimon felice si trovi alla fine delle opere i giorni di Esiodo fortunato e felice in quei giorni colui che sapendo tutto ciò lavora senza colpa verso gli immortali interpreta gli uccelli ed evita la trasgressione quest'uomo provisto di un buon daimon è colui che gli dei favoriscono perché agisce secondo giustizia tuttavia non è l'azione del dio in quanto tale a ricevere gli onori del culto e a tradursi in una rappresentazione figurativa il teos non il daimon è al centro di questa oggettivazione rituale che permette la comunicazione tra gli uomini e la sfera sovraumane degli dei e degli eroi in conclusione al termine di questo percorso sul daimon nella poesia arcaica e in particolare omerica vorrei sottolineare quanto tale categoria aiuti a pensare il modo in cui i gresci concepivano l'azione divina e di conseguenze essa ci aiuta a pensare il funzionamento del politeismo le potenze divine sono all'opera nel mondo e la loro azione è percepita in quanto tale dai gresci ciò è evidente per alcune divinità che ci sono familiari e che i gresci hanno rappresentato in modo chiaramente antropomorfo come Zeus Apollo Hermes Athena eccetera ma altri dei ci sembrano più difficili da comprendere per 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 come temis e dicche che rappresentano delle forme della giustizia o peito la persuasione o le cariti che incarnano altre tante forme della grazia e tutte quelle entità che troppo spesso riconduciamo alla categoria di astrazione divinizzate tuttavia esse non sono astrazione o semplici metafore 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 sono potenze all'opera nel mondo come un Zeus o un Apollo ma con un campo d'azione a priori più limitato e il daimon per come lo mette in scena Omero rientra a pieno titolo in questo quadro in cui la potenza divina è percepita dagli uomini senza che questi possano sempre identificarne l'origine non è un caso che fra le lamelle oracolari scoperte nel santuario di Zeus a Dodonna nella parte nord-west della Grecia la domanda a quale dio o eroe si debba sacrificare occorre con grande regolarità ora in questa serie si trova una iscrizione che aggiunge il daimon agli dei e agli eroi è molto raro ma esiste esiste leggo la tradizione della lamella oracolare dei buona fortuna evandro e sua moglie domandano a Zeus naio e adiona a quale dio o eroe o daimon potrebbero rivolgere preghiere e sacrificare per riuscire al meglio loro stessi e la loro famiglia nel presente e nel futuro continuerò questa analisi nei corsi al Collège de France la primavera prossima ma fin d'ora questo modesto documento ci mostra che il daimon non è soltanto il frutto dell'immaginazione poetica grazie per la sua attenzione grazie